Un aumento del 59% e la stangata di ottobre dopo l'aggiornamento delle tariffe elettriche deciso dall'Autority per l'Energia. Rera spiega di aver limitato l'impenata dei prezzi con un intervento straordinario. La spesa media per l'energia delle famiglie raddoppierà rispetto al 2021. L'emergenza energetica spacca l'Europa. La Germania vara a un maxi piano da 200 miliardi. Il caro energia influirà sull'andamento politico anche in Italia dove Giorgia Meloni lavora al nuovo esecutivo. La futura premier smentisce gli attriti con Salvini che avrebbe minacciato solo l'appoggio esterno senza il suo ritorno al Ministero dell'Interno. Oggi a Mosca Putin annuncerà l'annessione dei territori ucraini occupati dopo il referendum farsa dalla Farnesina. Si invitano gli italiani a lasciare la Russia mentre si aggrava ulteriormente la situazione malbaltico dopo la scoperta di una quarta falla nei gaslotti Nord Stream 1 e 2. La Cassazione, rigettando i ricorsi delle difese, ha reso definitive le condanne per i due principali imputati di mafia capitale, Salvatore Buzzi, 12 anni e 10 mesi, e Massimo Carminati, 10 anni. Intanto nuovi riscontri inediti nel caso di Samanna. Poche ore prima della scomparsa la ragazza appare nelle telecamere di sorveglianza mentre passeggia e parla con la madre. Buongiorno di nuovo, benvenuti alla prima edizione del Tg la 7 che apriamo con il caro bolletto annunciato ieri dalla Rera, che è l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. L'intervento dell'agenzia limiterà l'aumento delle tariffe al 59% rispetto al 100% che era stato paventato. La Rera, l'autorità di regolazione per l'energia, ha annunciato ieri un intervento straordinario per limitare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le famiglie ancora in tutela. La stangata arriverà comunque, ma perlomeno si evita il raddoppio. Così nel quarto trimestre del 2022 il provvedimento eccezionale dell'autorità sommato ai decreti del Governo riduce al più 59% l'aumento del prezzo dell'energia elettrica per la famiglia Tipo in tutela. In pratica per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia Tipo nel 2022 sarà di circa 1.320 euro rispetto ai 630 del 2021. Nonostante i decreti del Governo, spiega la Rera, si sarebbe arrivati a un incremento addirittura del 100%. Da qui la decisione di posticipare il recupero della differenza tra i prezzi preventivati per lo scorso trimestre e i costi reali aumentati enormemente nel terzo trimestre di quest'anno. Della crisi energetica ha parlato ieri anche Mario Draghi. Non possiamo dividerci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali. Serve solidarietà. Nei prossimi vertici europei dobbiamo mostrarci compatti e determinati ha spiegato poche ore prima del vertice dei ministri comunitari dell'energia in cui oggi si parlerà ancora una volta del tetto al prezzo del gas. Il Premier evidentemente non ha gradito la mossa del Governo tedesco che senza condividere una strategia comune ha presentato un piano da 200 miliardi per finanziare un maxiscuto per difendere cittadini, lavoratori e imprese dall'aumento del prezzo del gas. D'altro canto la Germania è tra i paesi più in difficoltà per colpa del caro di energia e della superinflazione che ha toccato il 10% su base annua. Non sta meglio la Gran Bretagna che ha varato un piano tutto in deficit da 60 miliardi di sterline, 69 miliardi di euro per evitare la recessione economica che incombe comunque su tutto il vecchio continente e non solo. Non è un caso che le borse europee ieri abbiano bruciato oltre 163 miliardi di capitalizzazione e che Wall Street abbia perso un punto e mezzo. Il contenimento dei costi delle risorse energetiche sarà uno dei temi principali che sono già sul tavolo del Governo in fase di formazione, il nuovo esecutivo alla formazione del quale sta lavorando. Giorgia Meloni. Giorgia Meloni inizia a mettere la testa sui dossier più urgenti dell'agenda politica dal caro energia alle imminenti scadenze economiche e in vista del Consiglio europeo di oggi a Bruxelles la Presidente di Fratelli d'Italia, Premier Inpectore sollecita una risposta immediata a livello europeo a tutela di imprese e famiglie. Per Meloni sarebbe infatti impossibile offrire soluzioni efficaci e a lungo termine in assenza di una strategia comune. Una freccia lanciata e forse concordata contro il Governo tedesco che proprio ieri ha annunciato un pacchetto di aiuti per contrastare l'aumento del gas. L'auspicio di Meloni in sintonia con Mario Draghi è che prevalgano buonsenso e tempestività nel Consiglio europeo sull'energia e in questa direzione va l'appello alla compattezza e all'unità sul fronte interno che la leader di Fratelli d'Italia rivolge anche a tutte le forze politiche. Il rebus di Governo richiederà invece tempi più lunghi ieri niente vertici con gli alleati per discutere dell'esecutivo che verrà e che Meloni puntualizza sarà di alto profilo e non deluderà. Dopo aver incontrato il vicepresidente Azzurro Tagliani e il leader leghista Salvini Meloni rimanda ai prossimi giorni bilaterali con Berlusconi e Lupi di noi moderati e proprio la composizione della squadra di Governo contribuisce a guassare quel clima di concordia che appare soprattutto di facciata. La Lega smentisce di aver ipotizzato un appoggio esterno e va in pressing perché il segretario torni ad occuparsi di sicurezza e immigrazione. Da parte sua Salvini che ieri ha riunito a Roma i neoeletti assicura di voler governare cinque anni con Meloni ma non avrebbe alcuna intenzione di mollare sul Viminale. Non è stata scartata ancora l'ipotesi di due vicepremier a Palazzo Chigi ossia Salvini e Tagliani che rivendica pari dignità per gli azzurri dopo l'ex eco elettorale. Per la giustizia in corsa ci sarebbero l'avvocato Giulia Buongiorno in quota Lega e l'ex PM Nordio eletto con Fratelli d'Italia. Per l'economia scendono invece le quotazioni di Panetta e salgono quelle di Siniscalco mentre per le infrastrutture si parla del leghista Rixi. Dal colle più alto filtra intanto l'intenzione del Presidente Mattarella di procedere con consultazioni rapide ed in carico in tempi brevi. Questo per quanto riguarda la maggioranza che si appresta appunto a governare il Paese. Sul versante delle opposizioni invece chiaramente è il momento delle riflessioni relativamente al risultato del quesito elettorale. Soprattutto all'interno del PD si riflette non soltanto sul cambio di leadership scontata dopo l'annuncio di Enrico Letta ma anche sulle prossime strategie politiche. Analisi del voto e discussione sull'avvio del percorso congressuale. Il programma fissato dall'ETA per la direzione nazionale di giovedì è chiaro così come è chiara è la volontà del segretario di lavorare per un congresso disegnato sul modello delle sue agora nel modo cioè più aperto possibile a differenza del famoso campo elettorale rimasto monco come è noto dopo la chiusura ai 5 stelle e il volto a faccia di calenda. Così come piuttosto chiaro è che il partito si è arrivato dopo il festival di segretari degli ultimi anni a un punto cruciale della sua storia ancora vicino per molti aspetti a la cosa descritta nel film di Nanni Moretti 30 anni fa. Assai meno chiaro è naturalmente il come uscire da un tunnel identitario per troppo tempo sottovalutato. Letta parla di una necessaria profonda riflessione dove potrà portare però nessuno al momento lo sa perché molto meno chiare per tutti sono le prospettive. Il ministro Orlando continua a guardare al passato d'oltre confine dopo aver già evocato Bart Godersberg il congresso dei socialdemocratici tedeschi del 59 con cui si chiusero definitivamente i conti con l'impostazione marxista ora parla invece per smarcarsi forse da calenda di modello Eppine quello con cui Mitterrand riunì i socialisti francesi all'inizio dei settanta rigenerare, ricostruire, ripensare, smantellare sono del resto i verbi più coniugati di questi tempi dove le idee forti sono decisamente meno delle autocandidature che continuano ad affastellarsi per un partito su cui si esercitano un po' tutti compresi i psicanalisti di simpatie renziane. Quel che è certo è che le manovre sono già iniziate il PD si apre a persone come Elislein o Roberto Speranza dice il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini quasi a bilanciare agli occhi della sinistra del partito il suo rapporto con l'attuale leader di Italia Viva mentre Deborah Serracchiani dimostra di non voler troppo approfondire limitandosi ad affermare che il PD non deve esistere solo per le alleanze deve esistere per sé altrimenti diventi dipendente dalle alleanze a cominciare e anche per finire in realtà da quella con i 5 Stelle dimostratasi la vera spina divisiva di questi ultimi anni insieme a quelle correnti che sia Renzi che Letta avrebbero voluto eliminare Alle 14 italiane Vladimir Putin annuncerà al paese l'annessione delle zone in cui si è svolto il referendum di annessione per l'appunto alla Russia Vladimir Putin sfida l'Occidente e si appresta a firmare l'annessione unilaterale alla Russia delle regioni ucraine di Zaporizia Kherson, Donetsk e Lugansk Dopo i referendum farsa dei giorni scorsi illegali per la comunità internazionale alle 14 di oggi ora italiana lo zar sottoscriverà i decreti per l'indipendenza dei territori occupati per Mosca il 15% di quelli ucraini in cui vivono 4 milioni di persone come accadde il 18 marzo del 2014 per la Crimea e Sebastopoli l'evento sarà celebrato con una cerimonia nella scintillante sala di San Giorgio del Gran Palazzo del Cremlino residenza del presidente della federazione russa a cui parteciperanno anche le autorità incaricate di amministrare le aree annesse in un'ampia parte della capitale il traffico sarà bloccato e sulla piazza rossa dove già dominano i nomi delle quattro regioni scippate a Kiev è già pronto il palco su cui si terrà un concerto e secondo i media russi potrebbe parlare Putin l'ambasciata d'Italia a Mosca raccomanda ai connazionali presenti in Russia di valutare se la permanenza nel paese sia necessaria e in caso contrario di rientrare in patria gli Stati Uniti non riconosceranno mai referendum di annessione fa sapere il presidente Biden apprezzo la chiara posizione del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sull'intenzione criminale della Russia di annettere illegalmente più terre ucraine twitte il presidente Zelensky ribadendo che tali azioni non avranno alcun valore legale perché violano i principi della carta dell'ONU e non saranno riconosciute dal mondo per oggi Zelensky convoca una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale Convocato per le 20 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite voterà una risoluzione di condanna dei referendum che però non potrà essere adottata per il diritto di veto di Mosca all'ONU si discuterà anche sul presunto sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico e delle conseguenze sull'Unione Europea divisa sul tetto al prezzo del gas Allora c'è un'ultima ora che arriva dall'Afghanistan purtroppo non ha una gran notizia anzi è una notizia drammatica perché ci sono 20 morti e almeno 35 feriti in un attentato suicida seguito da una sparatoria avvenuta in un centro educativo a ovest di Kabul ha riferito una fonte del governo afghano ad Al Jazeera il portavoce della polizia di Kabul ha confermato l'esplosione ha detto che le forze di polizia avrebbero fornito maggiori informazioni in seguito Rientriamo in Italia con la decisione della Cassazione la sentenza che ha posto fine alla vicenda giudiziaria nota come mafia capitale confermate le condanne per Salvatore Buzzi e Massimo Carminati Definitive le condanne per gli imputati del processo mondo di mezzo la Corte di Cassazione ha confermato le sentenze per Salvatore Buzzi e Massimo Carminati le menti del sistema criminale degli appalti pubblici a Roma la Suprema Corte ha convalidato in via definitiva le condanne a 10 anni per l'ex NAR Carminati e a 12 anni e 10 mesi al RAS delle cooperative Buzzi quest'ultimo è stato arrestato ieri sera dai carabinieri alla Mezzia Terme in Calabria per espiare la pena residua di 7 anni e 3 mesi invece Carminati che deve scontare ancora 4 anni potrebbe essere affidato ai servizi sociali ed usufruire delle misure alternative al carcere la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello del 9 marzo del 2021 nel processo d'Appello BIS pronunciamento arrivato dopo che nel 2019 la Suprema Corte era intervenuta facendo cadere per tutti gli imputati l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso come sostenuto dalla Procura di Roma da cui il nome dell'indagine è mafia capitale alleggerendola ad associazione a delinquere semplice pur riconoscendo la gravità dei fatti ed il pesante condizionamento degli imputati nell'assegnazione degli appalti del Comune di Roma dall'assistenza ai migranti al verde pubblico vennero così ridotte le pene di primo grado che condannavano a 14 anni e mezzo Carminati e a 18 anni e 4 mesi la Procura Generale della Cassazione ha accolto pienamente le conclusioni della Corte d'Appello sul sistema criminale del mondo di mezzo e sulla pubblica amministrazione utilizzata come una mucca da mungere tutti i ricorsi sono stati rigettati tranne quello di Franco Panzironi l'unico imputato per il quale ci sarà un terzo processo d'appello e torniamo ad occuparci di Saman del caso di Saman la ragazza pakistana uccesa dai propri familiari il cui corpo non è mai stato rinvenuto sono stati sono emersi alcuni fotogrammi che la ritraggono pochi istanti prima della sua uccisione Saman vestita con abiti tradizionali pakistani camicia lunga fino alle ginocchia pantaloni larghi gile scuro a volto scoperto poche ore prima della sua scomparsa al 30 aprile 2021 e insieme alla madre e alla zia passeggiano e discutono per sette minuti sono nuovi fotogrammi del video registrato dalla telecamera di sorveglianza puntata sul piazzale della casa di Novellara illuminato dai fari di un'auto di passaggio il fratello minore fuori dalla porta le osserva un'ora dopo Saman esce di casa con i genitori ma si è cambiata indossa jeans e scarpe da ginnastica in spalla uno zainetto è in quell'ora che si consuma l'ultima violenta litigata della diciottenne con il padre Shabbar lei vuole i suoi documenti lui glieli consegna poi sale al primo piano si chiude in bagno per vestirsi prepara lo zaino ed esce per andare via è la decisione irrevocabile della ragazza come scrivono gli inquirenti di lasciare in quel momento la casa familiare a raccontare di quell'ultima sera di Saman il fratello allora sedicenne la guarda anche quando si incammina sul vialetto verso le serre insieme ai genitori per la procura di Reggio Emilia veniva consegnata ai suoi carnefici lo zio Danish l'avrebbe strangolata con l'aiuto di due cugini alle 9.40 del 1 maggio poco ore dopo la sua scomparsa un connazionale porterà i genitori di Saman a Malpensa a destinazione Pakistan i biglietti comprati pochi giorni prima lo zio Danish carica nel baulo una valigia ed anche uno zaino rosa forse quello di Saman che non è mai stato trovato in casa sono latitanti in un villaggio del Punjab la madre il padre di Saman il procedimento delle autorità pakistane per autorizzare l'estradizione non è ancora concluso adesso il delitto di Melito in provincia di Napoli Marcello Toscano l'insegnante di sostegno di 64 anni rinvenuto morto all'interno della scuola nella quale è insegnato sarebbe stato ucciso da un collaboratore dello stesso istituto l'uomo è stato di arresto è prevista questa mattina l'udienza di convalida del fermo del presunto assassino di Marcello Toscano l'insegnante di sostegno di 64 anni della scuola media Marino Guarano di Melito ucciso con sei coltellate martedì in provincia di Napoli ad ammazzarlo secondo gli inquirenti sarebbe stato Giuseppe Porcelli 54 anni collaboratore scolastico dell'istituto dove il professore insegnava le prove decisive a suo carico sarebbero le tracce ematiche trovate su alcuni indumenti dell'uomo ma anche le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area in cui sarebbe avvenuto il delitto prove che dopo indagini Lampo hanno portato al suo arresto Porcelli detenuto nel carcere di Poggio Reale non ha risposto ai magistrati non ha confermato quindi la ricostruzione degli investigatori il movente del delitto non sarebbe riconducibile a litigi tra i due a questioni sentimentali molto più credibile per i magistrati la pista dei dissidi economici di un prestito concesso da Toscano a Porcelli che è mai restituito sarebbe stato questo il motivo dell'incontro che ha preceduto il delitto avvenuto nella casa abbandonata del custode all'interno dell'istituto la mattina di martedì mentre insegnanti e alunni erano tranquillamente in classe poi l'aggressione e infine l'omicidio del professore con il corpo dell'uomo che è stato ritrovato solamente nella tarda serata di martedì in una aiuola sempre all'interno dell'istituto dopo la denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri dai familiari In chiusura lo sport Napoli-Torino Empoli-Milano ma soprattutto Inter-Roma domani saranno i tre anticipi del campionato di calcio per quanto riguarda l'ottava giornata di andata Di bala sì di bala no soltanto oggi vigilia di Inter-Roma sapremo se l'argentino partirà per Milano a Trigoria c'è fiducia ma sembra improbabile un suo impiego dal primo minuto nel big match dell'ottava giornata dopo l'affaticamento muscolare che negli Stati Uniti gli ha impedito di giocare con la nazionale Mourinho fuori per squalifica farà di tutto per portarlo almeno in panchina puntando sulla voglia dell'ex Juventino di affrontare la squadra che in estate lo ha corteggiato a lungo per poi lasciarlo firmare con i giallorossi scelte obbligate per Simone Inzaghi sempre senza Lukaku a rischio anche per la gara Champions con il Barcellona il tecnico nerazzurro darà ancora spazio alla coppia d'attacco Giacolo-Taro-Martinez mentre a centrocampo il rientrante Cialanoglu affiancherà Barella e Aslani con quest'ultimo al posto dell'indisponibile Brozovic gli altri due anticipi del sabato saranno Napoli-Torino ed Empoli-Milan buone notizie per Spalletti e Pioli la caviglia destra di Politano non dà più problemi e l'esterno della formazione partenopea che guida la classifica insieme all'Atalanta si candida per una maglia da titolare i campioni d'Italia bilanceranno invece le pesanti assenze di Megnane e Teo Hernandez con i recuperi di Leao Tonali Calabria e forse Rebic Milan a meno tre dalla vetta con gli stessi punti di una Lazio che ha il dubbio immobile il bomber di Sarri potrebbe saltare lo Spezia per infortunio e intanto spegne le polemiche sulla mancata trasferta a Budapest con gli azzurri è stato Mancini a rimandarmi a casa perché non avrei potuto giocare più stizzita la replica di Conte alle voci riguardanti un suo possibile ritorno alla Juventus sono discorsi irrispettosi per me e per Allegri le parole dell'attuale allenatore del Tottenham David Parenzo Paolo Mieli Agnese Pini Vittorio Macioce Lorenzo Pregliasco e Dario Fabri saranno gli ospiti di Alessandra Sardoni nel dibattito di Omnibus può seguire Andrea Pancani con Coffee Break avrà con sé Davide Vecchi Maurizio Gasparri Benedetto della Vedova Gianluigi Paragone e Mao Valpiana ora invece io cedo la parola come tutti i giorni a Patrizia Iorio per le informazioni sul traffico autostradale a seguire torna anche Paolo Sottocolona grazie e buona giornata